Il tuo consulente AgroMetro ti dà il benvenuto su Agro Notizia. Il tempo ha previsto tra il 21 e il 29 di marzo. Bene, prosegue fino al 23, questa ondata di freddo con aria ancora in arrivo dal nord Europa, direi dal circolo polare, anzi arriveranno altri due nuclei di aria fredda, uno nella notte appunto di domenica e un altro il 23. Poi in realtà dal 24 fino alla fine del mese ci sarà un'alta pressione sulla nostra penisola e avremo, direi, il primo scorcio vero di primavera. Ma andiamo con ordine, prima fase tra il 21 e il 23 ancora freddo, freddo soprattutto dapprima sulla regione del medio adriatico e su quelle meridionali, e poi tra il 22 e il 23 freddo su quasi tutto il centro-sud, un po' di meno al nord perché sul nord le temperature vedremo saranno in rialzo. Sempre tra il 21 e il 23 ovviamente con temperature ben al di sotto della media, 6 e 7 gradi al di sotto della media, vedremo nevicate fino a quote molto basse sulla marca Abruzzo, Molise e Campania, fino a quote di 200-300 metri, nevicate 600-800 metri sulle regioni meridionali, delle piogge sempre sulle regioni meridionali, laddove non nevicherà. Ci saranno forti gelate al centro-nord, tranne le coste ovviamente sia del nord che del centro. Forti venti di bora sulle regioni adriatiche e di grecale su tutto il meridione. Una seconda fase tra il 24 e il 29 di marzo arriva l'alta pressione, arriva l'anticiculone dell'Azzorro, cambia tutto. Ovviamente cessa il freddo, temperature in rapida risalita, non vi saranno piogge, non sono previste nevicate, non sono previste nemmeno gelate. Le temperature, appunto le temperature tra il 21 e il 23 saranno in lieve rialzo addirittura sul nord Italia, perché l'ondata di freddo invece tra il 21 e il 23 farà calare le temperature, soprattutto al centro-sud. In questa fase al centro-sud le temperature saranno 6-7 gradi al di sotto della media attesa per questo periodo dell'anno. Gelate al centro-nord, tranne le coste, freddo, dicevo, soprattutto al centro-sud, forti venti di bora e di grecale, fino a 90 km all'ora nella giornata di lunedì sulle coste del medio adriatico. Poi tra il 24 e il 29, come dicevo, temperature in rapida risalita di 6-8 gradi, tanto che intorno al 26 di marzo le temperature massime saranno intorno a 16-18 gradi su quasi tutta l'Italia. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giulianci, da pulsante sottostante e poi vedere le previsioni di Casatuvo.